Ciao a tutti, rieccoci, davanti, davanti, andati, l'episodio 6, siamo lasciati al 5, insomma vi, e andiamo, sei dovuto tagliare perché era troppo lungo, se non l'ho, se non l'ho, se non l'ho, si penso di sì, insomma io sono sempre vi, esatto, poi là, poi buttami, si puoi vedere, siamo trovati a padre martin, è lui, no, cazzo guardi, eccoci, destra, pilli non ci sono, non ci sono, non spichervi, non spichervi, di qua, si, si, scusi, scusi, bello, oh, chi è, vabbè, a me ora mi lasci stare, ok, io sto facendo, ma devo salir su, eh, a fare di sì, proviamo ad andare di qua, vediamo come si fa, c'è sangue, devi seguire sangue, dietro, fanno, dietro? ah no, vedi giù e io voglio vedere chi c'è qui c'è uno lascia stampa vabbè, andiamo ma su, devi andare nella stanzia ti ho detto che si doveva prendere qui N- Joe, pazzo no, 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 vai di ax accovaccia, ti senti bene si chi nasce chi non è vero il segno la stanza dai vedi vieni 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 dai vieni si vede coioide schissimi brutto de si ma io voglio aprire come apri no sfondiamola sfondiamola come fa scontata pochino ma un giro a giudizio c'è una sega c'è una sega vedi non va proprio ho capito ma guarda se porta da altri parti ma da dove cazzo c'entri secondo te la diavola va inviato vedi sbola della partita vai da dove c'entri io lo so vabbè è saperta ma io ho uscito uno è uscito uno ma è uscito da sinistra vai vabbè spassa di qui dai mi fai un tupit 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 si poi voglio vedere qui come si ma se lì si sconda ma è che se ti può fare ma ti vuoi me la hai certo culo mi davvero a calcamac si è chiave che chiave che c'è che c'è 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 oh oh se c'è 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 i c'è c'è è vero che devi raggiungere così tutto è ora 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 si vediamo come si fa ora si vede c'è si deve tornare in tutto indietro dobbiamo ornò io però qualcuno la strada troppo non ti va no ehi vai 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 cometti ehi ho il violino qui spunta qualcuno me lo sento si si deve scappare veloce su aspetta aspetta fa l'uscita lì dove dove vabbè si scoprirà subito aspetta cinque secondi esci non è vero tre tre quattro e cinque vai per uscire ti a vedi eh ci muoio guarda hai visto? si eeeh eeeh cosa devo fare? oddio gente col trafano pensavo fosse lì vabbè qui no vabbè lui comunque non viene vai vai scappa corri e vai sinistra fa non devi andare dove sono usciti loro vai come dormi a see come dormi come dormi guarda ve c'era lo sciamane che ti ci vuol eh cosa ti è raccoglie di te fa un cuore ancora vabbè mi ricordo tra l'altro io chiedo no no io non voglio nessun guarda nessuno mi deve non per il cibo nessuno è noi 0 no 0 no 0 no 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 non ti fa nulla ma fa pure perchè non mi ha capito apri? no non vuoi fare qui che mattacchione tu accanto a te va no boh è trovo di schizzi penso qui boh è qui nella uscina si era... andiamo di qua scusi lei non fa più mica accendere la luce si no non è le se ne è un manichino manico io non è le 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 vabbè 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 aspetta la luce no vabbè vabbè ancora caimano tu tss ma io ne vuoi da caso deve andare male lei ti va fatti e che vuoi andare lì scusate ma è uscita lei io voglio uscire no no guarda là senti che io no allora lo vedi perchè c'è lui vai ti preoccupa ma non c'ho bisogno di sentire una cosa Già ti pregano, non capisci qualcosa. Ma io, Luca, dite la sinistra. E ti... Vino. Il problema è che tu non mi ricordi dove si vanno. La sinistra. La sinistra. Questa, guarda. No, ma ci sono le stanze. Ma io, va, vai. Oh! Piano, eh. Ma io non li fai. No, mi sto guardando qui. Adesso, buttati. Eh, eh, sì, mi devo buttare. Ah, no. Prima di guardare il piano, adesso è sinistra. Lì? No, ma lei va. Sì. Fa così, deve stancare. Eh, vai, vai. Eh, vai, poi ci fai di te. Ah, va, 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 va. Eccolo sinodo, vai. No, eh, dopo il cazzo. Eccolo sinodo. Vai. Vai. Guarda, guarda la scena. È bellina la scena. Sì. Vuoi? Non l'abbè lasciata. No, a me... Cappella. A me questo è un semi, non mi calmo. Non mi calmo. Ah, non ti calmo. E non la vedi. Vai a destra. Eccoci. E' da padre Martin, appicciata, sì. Oh, che pisello. Vai. Adesso si rimane, poi si... Da, basta. Basta, basta. Perché è? Si passa. Sono pronto, basta. Oioh, ma chi è? A breve raggiungere voi vorrete. La chiave, prendila. Vabbè. Ed è buato, fa vedere. Lo guarda tutto, vai subito all'ascensore. No, volevo vedere cosa fa. Mi conviene guardare. Si. Ma chi è il Gagliano e lui? Si. Poverino, mamore. Mamore. No, no. Poverà... Ma... Ma chi è il Gagliano e lui? Poverà... Ma... Da una fiammata. A letto. Chi è tu? Guarda, ti ho riparato la scienza. Quando hai rinventato, tutti noi saremo liberi. Quindi, ragazzi, vuol dire che... Manca poco. Manca Puego. Che significa poco? Che significa poco? Perché hai detto Puego? Puego. Non c'è andata. No! Mira! Fa la brasciata. Così, spondone. Ma perché l'ha fatto? Un obiettivo, vai. Eh... Ah. Grazie. Grazie. Ok. Ora adesso devi tornare indietro. Dio, vai. Ora si ride. Si ride per me da te. Non so se si sa. Non so se... Non so se... Non so se... No. No. No, no. Mi fa il giro. No. Non so se mi passa da... Facciamo di più la segna. No. No. Senti, proviamo ad andare di pure. Eh... Perdona... Ah, la cosa. Mi ammette. No. No, no, dai. Lo porti. Ma se ne fei gli sbutto, lo ascolto il forcellino? Si, qui. Perché se no che è questo ciò. Dai, ci siamo. Dai po', ci siamo. Dai po'. No... Lo vedi po' ya? Sasconditi in qualche stanza. No, lo vedi? Sasconditi. il in quando post si quando possa e poi gli hai scappato no ho sbagliato mamma ma che cazzo fai? fermati nero bisogna me la sfonda lo sai? guarda dai devi mirare giù io mi voglio nascondere lo vedi che non va a questo cazzo lì? tanto non passano io voce ti aprirei no invece passa è qui davanti te lo dio vai Fanno apri vai Fanno apri scappa subito a destra a destra? apri scappa piano piano o forte? forte destra va 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 mi piace a sinistra va vai vai la luce a sinistra vai no si è rotta la porta mi sono colta mi sono colta e tu senti un'idea non c'è un'idea di riaffa vabbè si fa il giro dai no? ma chiuso la porta ma chiuso la porta Fanno ma chi è che mi ha chiuso la porta? ma attacchiamo chiudi 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 sai cazzo ma sconti, ma sconti il muro fai la passata provo a arrivare no, vedi insieme no cazzo fanno, vai sotto a letto vai poi tu ce l'hai fatta incarica la battaglia vabbè ne mando passa nelle sede a lombria ah lui qui ma lui si diverte un po' di gioco non so se siamo venuti vai, vai, vai vai, affacciati che ne sia affacciati, guarda cavolosamente vai ma basta ma non lo so dove devo andare io è inutile che mi dici sì, io non lo so mi fai passare dove, dove, dove vai, 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 ancora a diritto ancora un po' giuri a destra ora a destra ok da sinistra destra 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 sinistra vai edema però lì dove siamo passati prima eh lo so poi edema io però in questi laberitti ci viscono uno e eh io vabbè dai stop no 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 allora allora fallo te questo vai ma io stasso scusa ma è solo questo pezzo tu allora lo sguardo no che cazzo fai no che cazzo il sedioso il sedioso non mi vede davvero che idiota sarà una gran giuata eh no facciamo avviso come ne vado a fare ragazzi tirami grande ciccio vai cazzata qua dietro dietro bravo ma vai però non è così stupido ora vede che cazzo si è andato ma non bisognava salire ah è vero oh sali sali vai tieni aspetta vai tieni vai nella porta vai vieni corri guarda ti stai armato vedi ora c'è l'ascensore vai nell'ascensore subito vai via guarda qui si può chiudere guarda si può chiudere ragazzi a regola è andato a modino va bene indipendenti mentre qua andrà eh noi si finisce il video qui noi si finisce qui a regola se il prossimo è l'ultimo ci siamo quasi via direttore esito addio si è bloccata a vento vabbè ci vedo il prossimo episodio ma vabbè tanto sicuramente devo uscire di qua ci si vedo il prossimo episodio addio invece no aspetta ragazzi allora vai allora vi si lascia con questa semplice vera è una semplice voglio sapere dove si va e' una felicità che si saluta il figlio non finiamo qui via al prossimo che è benessi e lunedì ragazzi ciao ciao a tutti ciao ciao